Io sono Martina. Io sono un mix di tante cose. 10% coraggio. 30% libertà. Mollare 0%. 10% dubbio. 20% avventura. 30% energia. 100% mix. E mi piace così. È il mix delle cose più buone che ci rende quello che siamo. Unici. Come la bontà e il benessere BB Mix Ventura. Ventura. Solo la frutta più buona.